Govoni, non era quello che era cascato a piazza di Siena, che era cascato alla prova del muro? 1, 2, 2, prossima 4, benissimo, ciocca. Prossima 3, è il gioco del 1. Prossima 7, vai cercare gli zoccoli al 1. Prossima 4, prossima 5, prossima 3, prossima 1. Prossima 4, prossima 5, 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 prossima 6, 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 prossima